Il cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. In Fipili verso Firenze, code per incidente tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno. In direzione Mare, code per lavori tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, code per veicoli fermi al km 9200 tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina e al km 47 tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.